Ieri c'è stata la conferenza stampa, buongiorno, benvenuti a tutti, buon weekend di pasto. Ieri era il venerdì santo, oggi mi sono anche un po' perso la pazienza, quindi oggi devo stare un po' più calmo come qualcuno mi consiglia, domani è Pasqua che passeremo agli arresti domiciliari e quindi adesso vediamo subito che c'è scritto sui giornali di oggi per essere molto pratici e capire come i giornali italiani hanno interpretato la conferenza stampa di ieri sera nel periodo di massimo ascolto che attendevamo dal pomeriggio, ma che ovviamente è arrivata soltanto quando l'ascolto è stato massimo attraverso la regia straordinaria di Casalino che forse ha letto gli indici Auditel, basta quello per capire qual è l'ora migliore per andare in onda, insomma vi devo dire la verità che i commenti dei giornali oggi sono imbarazzanti, sono imbarazzanti perché ieri sera io a caldo, la potete vedere sul mio sito nicolaporro.it, ieri a caldo ho fatto una zuppa serale, non una zuppa mattutina vi invito a guardarla, su quelle che sono le considerazioni che una persona normale vedendo ieri Conte che parla davanti a milioni di italiani che cosa gli viene in mente a una persona normale e l'ho messo sul mio sito nicolaporro.it e mi aspettavo che oggi ci fossero dei commenti in tal senso anche dal giornale unico del virus, magari non con i toni sacerbati che ho avuto io ieri sera, ma con la razionalità del grande giornale borghese. Zero, zero. Cioè ieri nel disastro di quello che stiamo vivendo, quello utilizza lo strumento televisivo, il Presidente del Consiglio e Casalino, per attaccare l'opposizione. Beh, insomma, qualche commento anche dei giornalisti un po' meno intruppati me lo sarei atteso, invece poco o nulla, se non un titolo veramente ben congegnato per il gioco di parole del tempo, il bullo della diretta, dice il tempo di Becchis, che sta per il bello della diretta, che era una vecchia nostra modo di dire, ma il bullo della diretta sarebbe questo signore dall'area compassata, che però nei confronti dell'opposizione ha avuto toni che non ci si aspettava in una conferenza stampa di questo, non è una conferenza stampa, è di una comunicazione agli italiani, tanto che il tempo titola invece di attaggiarsi a Caudillo, scrive il tempo, e vedremo cosa si beccherà, se una querela o meno, ma l'atteggiamento a Caudillo si potrà forse ancora dire in questo paese, beh, insomma, dica la verità. Ma di questo ne parleremo dopo. Il vero tema, secondo i giornali borghesi italiani, quelli non di opposizione, è che ci sarebbe uno sconto sugli aiuti europei, come titola Il Corriere della Sera, oppure Conte Eurobond o Non Firmo. E qui ci sono vari commenti, ovviamente tutti, sulla questione europea, che tra l'altro è tutta là da vedersi, perché gli insulti arrivano subito, i decreti, diciamo, fatti da questo governo arrivano subito, le riaperture non ci sono da subito, mentre la roba di Eurobond è rimandata a un nuovo incontro europeo del 23 aprile, quindi di che stiamo parlando? Però ovviamente i nostri si esercitano sul nostro mestiere più bello, cioè raccontare il sesso degli angeli, che in questo momento Eurobond sì, Eurobond no, ovviamente che ha delle importantissime implicazioni per il nostro paese. Mario Monti. Mario Monti è il Corriere della Sera a chi dedica questo, l'articolo principale del Corriere della Sera è dedicato al professor Monti, quello che firmò, bisognerebbe spiegarlo a Conte, firmò il MES nel 2011-2012, cioè il meccanismo salva stati. Non voglio dire se è buono o sbagliato, però voglio segnalare a Conte che non era la Meloni, come ha detto ieri sera con la sua fake news a firmarlo, ma Monti, che oggi scrive sul Corriere della Sera. E Monti dice che il compromesso che sarebbe stato fatto, beato lui che lo conosce in Europa, è un compromesso dell'Italia molto soddisfacente, che l'Italia ha negoziato bene, bontà sua, perché poi alla fine è la voce dell'Europa, quindi capisco che l'Italia ha negoziato male. Se Monti dice che l'Italia ha negoziato bene è una bellissima cartina di Tornasole per capire come noi abbiamo ceduto sovranità all'Europa, sovranità legittimamente, possiamo anche cederla per avere qualcosa in campo, però Monti, che è il primo della classe, ricordatevi, l'unico che consideriamo un servitore del paese, ma con la poltrona assicurata a vita, che è una cosa che veramente fra vent'anni diremo ma ragazzi come avete fatto a non capire che è una cosa ridicola? Insomma, Monti, l'uomo che serve il paese con la sedia a vita, dice che però buono l'accordo, buona la negoziazione italiana, ma ora il rischio, scrive, è che l'Italia non sappia lavorare bene sul risultato ottenuto. Cioè è come se noi non facciamo bene i compiti a casa, hanno fatto bene la negoziazione e non facciamo bene i compiti a casa, sostanzialmente non ci portiamo la troica a casa, immagino io. Il punto di vista di Sallusti sul giornale è che l'Italia è stata completamente lasciata da sola, cioè è esattamente l'opposto di quello che dice Monti, Monti un esperto, Sallusti più un analista politico, vedete voi da chi fidarvi, Gentiloni, uno di quelli che stava trattando, che cosa dice? Abbiamo infranto un tabù, fonte da mille miliardi in cantiere. Il punto è anche questo ragazzi, questi qui stanno godendo del fondo da mille miliardi che sarebbe un'alternativa al MES, ma in realtà non è un'alternativa agli euro bond, che è tutto da vedere, come verrà finanziato, come verranno utilizzati questi soldi, a chi verranno dati, a quali condizioni, cioè questi brindano per una cosa che non c'è, questi non hanno capito che cos'è un bar, questi non hanno capito cos'è un ristorante, se non per farsi servire da stuoli di camerieri in polpe, perché io non posso pensare, caro Conte, Gentiloni, che tu mi stai vendendo un fondo da mille, tras miliardi, miliardi, come se fosse una cosa fatta, quando tutti dicono, cioè questi ragionano, capito, ottengo questo, non ottengo quest'altro, qua servono i soldi subito, ora per le imprese, per le aziende, non per un politico che alla fine del mese si porta a casa il suo risultato, non perché io ce l'abbia con loro, sono ben contento che si portano lo stipendio, ma il 99,9% non lo fa, dei vostri fondi se ne fa una pippa, ma comunque Prodi dice un'altra cosa sul messaggero, pensate un po' voi, ed è la logica di questi, è una logica di persone che vivono fuori dalla realtà, che fanno i professori, i politici, gli impiegati pubblici, già buono che sia stato trovato un compromesso, ma io col compromesso non vado in banca a farmi fare un finanziamento, io col compromesso non attivo la mia fabbrica che è stata fermata perché siamo ancora agli arresti domiciliari, ma questo evidentemente non lo dicono, poi mi sembra Cerasa risultato più che soddisfacente, ma la chiave di volta è in una frase che ha individuato Bruno Vespa, Bruno Vespa scrive, che non è esattamente uno di questi giornalisti che voi pensate che stanno là europeisti, che stanno a controllare le cose, beh è straordinario perché Bruno Vespa oggi sul quotidiano nazionale che fa il fondo una volta alla settimana, oggi scrive, dice guardate che per capire quello che è successo, sentite un po' bene, è facilissimo, basta sentire che cosa ha detto il ministro delle finanze olandese, cioè i più duri contro l'Italia, quelli che non volevano l'Eurobond, in un testo deliberatamente, dice il ministro olandese, vago, il testo è deliberatamente vago, ognuno può leggere quello che vuole, ma non una condivisione del debito, avete capito? Questo dice il ministro olandese, in un testo deliberatamente vago, ognuno può leggere quello che vuole, ma non una condivisione del debito, punto, basta, è la solita fuffa totalmente inutile, sia chiaro, agli europeisti, agli anteuropeisti diciamo convinti, dico che l'unica cosa vera che sta avvenendo in questo momento è che la Banca Centrale Europea sta comprando i titoli di debito pubblico in maniera enorme, anche sul secondario, questa è l'unica cosa vera, anche se, sosteneva Marattin che è un deputato importante di Italia Viva, stiamo attenti perché non è che questi meccanismi poi andranno in contrasto con questo acquisto di titoli di Stato, che è l'unica cosa che in questo momento sta avvenendo, comunque questi europeisti ci sono sempre, sull'attacco di Maroni alla Lega e alla Meloni, ovviamente i giornali sono tutti più o meno silenziosi nel tempo, nessuno si scandalizza, nessuno che dice che Conte sta facendo una cosa da populista, nessuno sta dicendo che sta facendo il caudillo se non il tempo, Lega e Fratelli d'Italia, l'unica cosa che possono dire è, beh insomma, il Colle forse potrebbe intervenire, anche perché i giornali cosa commentano oggi, Franco, Verderami e gli altri, commentano che allora è stato difficile il dialogo con l'opposizione che aveva chiesto il Quirinale, ma santo Dio, ma il dialogo con l'opposizione secondo voi come è stato fatto con quell'atteggiamento che ha avuto ieri Conte? E poi Sorgi oggi, bene, sulla stampa racconta, ma non è solo lui, anche Verderami su Corriere della Sera ci raccontano che il vero problema di Conte non sono Salvini e Meloni che saranno l'opposizione, che possono fare il loro mestiere di opposizione, ma all'interno del governo PD e Movimento 5 Stelle si sono molto, ma molto disuniti proprio su questa cosa europea, col Movimento 5 Stelle, l'ha detto anche il suo portavoce o porta, quello che volete, Crimi, che su questa cosa del MES loro non ci stavano, quindi la risposta che ha dato ieri sera Conte non era tanto a Meloni e Salvini, grandissimo gioco retorico che è Ermutanda si è invettato per Conte, ma era una risposta a Salvini e a Meloni per far intendere al Movimento 5 Stelle che loro, il MES, non lo firmeranno. Avete capito qual è il gioco retorico banale? Il confessionale, come vedrete sul mio sito, il confessionale di Conte, né più né meno. Beh, poi l'altra cosa che trovo incredibile è che il Partito Democratico propone di tassare le persone che guadagnano più di 80.000 euro, va bene? Di tassarle. Bene, le persone che guadagnano più di 80.000 euro, secondo una tabella bellissima fatta dal Sole 24 Ore, sono l'1,9% dei contribuenti, cioè questa è una cosa già incredibile, in Italia solo l'1,9% dei contribuenti dichiara più di 80.000 euro e questo 1,9% dei contribuenti ha sulle sue spalle, io sono uno di loro, ha sulle sue spalle il 25% di tutti gli introiti fiscali, cioè un euro ogni quattro è pagato dall'1,9% di tutti i contribuenti italiani. Allora dice in Sole 24 Ore, ma siete matti? Tamburini nel suo fondo dice guardate che questa è una proposta geniale, questa proposta geniale l'ha fatta Salvini, non l'ha fatta il PD, perché in questo modo Salvini arriverà al 40% e Tamburini, che non è proprio la persona più spiritosa del mondo, devo dire coglie uno degli aspetti più interessanti di questa cosa, che questi sono matti. Tra l'altro quelli del PD che hanno proposto questa cosa si chiamano Del Rio ed è il capogruppo del PD, non è un quisque de popolo, è il più importante parlamentare del PD che propone questa roba qua. Ma la cosa straordinaria, voi pensate che la proposta del PD del più importante partito di sinistra in questo momento, di uno dei partiti di governo che esprime il ministro dell'economia, voi pensate che loro dicono di fare una tassa sopra gli 80 mila euro? Me la trovo in prima pagina sul Corriere della Repubblica, in prima pagina ce la troverò, niente, neanche una riga, neanche una riga, neanche una riga in prima pagina sul Corriere della Repubblica, allora le cose sono due. O il PD è un partito che è considerato di minus abens, che non ha nessun peso in questo mondo per i giornali, oppure i giornali lo vogliono occultare? Secondo voi il giornale unico del virus che cosa vuol fare? Nel frattempo pezzo pazzesco, una roba che io non pensavo che un giornalista potesse scrivere, cioè ne ho viste tante, quello di Travaglio, perché dopo aver detto di Bertolaso, grazie al cielo che si è salvato, cioè che era venuto a costruire 100 posti di letto, invece ne ha occupato uno mentre stava rischiando di essere intubato, questo scrive Travaglio, oggi riesce a scrivere sul giornale, e questo lo dico a tutti quelli che si preoccupano che io uso dei termini troppo eccessivi, ieri mi ha detto qualcuno calmati, non essere così eccessivo, calmati, sapete cosa scrive Travaglio oggi? Scritto, non voce dal senfuggita come posso avere io quando faccio le dirette, Travaglio dice migliaia di persone condannate a morte dalle scelte scellerate della giunta Lombarda, cioè in Lombardia muoiono delle persone per le scelte della giunta Lombarda, chiaro? Non di Conte, non del ministro della salute, della giunta Lombarda, io non le attribuirei neanche a Conte, neanche a Speranza, cioè dire una cosa di questo tipo è di una gravità straordinaria e ovviamente seguono le procure perché ormai la procura fondamentale è quella di Milano che ha indagato il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, ci sono riusciti Repubblica e il fatto, finalmente quando i medici perdono un pochino di potere risalgono i magistrati, cioè tutti tranne i politici che ovviamente stanno appecoronati a quello che dicono i giornali giustizialisti. Nel frattempo la Lucarelli ci racconta, la RSA di Palazzola mi dissero tutto ok e mia madre è morta, succede purtroppo e drammaticamente in tutte le città, oggi c'è purtroppo una persona che conosco che è morta a Roma, che diceva la stessa identica cosa, a Roma è stata ricoverata a Tor Vergata, è morta, è una persona che conosco bene da tanti anni, è morta e non gli hanno fatto il tampone, era disperato, morta e anche a lui non si è raffilato nessuno, cioè adesso i morti sono soltanto dovuti alla giunta Lombarda, è solo tranquillo perché voglio essere tranquillo, ma è una roba che avete idea dove andiamo a finire su questa cosa qua. Poi l'altra questione è che ieri forse io sarei stato interessato a sapere questi arresti domiciliari che sono passati in secondo piano rispetto agli aiuti europei che sono tutti il di là da venire anche perché c'è l'accordo 23, alla polemica con Meloni e Salvini che era una polemica fatta in realtà da Conte con i suoi del Movimento 5 Stelle e poi mi trovo in realtà l'unica notizia che siamo agli arresti domiciliari zitti e muti fino al 3 maggio. Io vorrei fare una cosa ragazzi, ma quelli che cantavano ai balconi dove sono finiti? Dove sono finiti? E su questo però vi devo segnalare una bellissima intervista al prefetto di Roma che ti fa capire la differenza tra prefetto di Roma, tra prefetto e prefetto, la quale dice due cose. I romani rispettano le regole perché fino a prova contraria andare a fare la spesa non è vietato, andare a portare giù il cane non è vietato e fare queste cose non è da delinquenti, lo vogliamo capire. Siamo agli arresti, ogni mese ci dicono quanti arresti dobbiamo stare in più e finalmente c'è un prefetto che non parla come un prefetto di ferro, ma come un prefetto che capisce che è incredibile la situazione che siamo. Il prefetto di Roma cos'altro dice? Attenzione, attenzione perché nelle periferie di Roma scoppia, socialmente scoppiano se continuiamo così, grazie al prefetto di Roma. Perché poi mi leggo un pezzo di un ottimo giornalista del Corriere della Sera, pagina 14 del Corriere della Sera, Rinaldo Frignani, pagina 14 del Corriere della Sera, giornale unico, ascoltate, leggete bene con cosa scrive. Peraltro dice, vengono fermati, vedono ci sono le file delle macchine a Roma e uno dei guidatori su tre è senza mascherina e c'è addirittura chi? La mascherina l'ha agganciata allo specchietto retrovisore, avete capito? Cioè incoscienti che in macchina da soli non mettono la mascherina. Toc toc! Giornale unico del virus, caro Rinaldo, ma guarda che non è obbligatorio mettere la mascherina in macchina, punto primo, punto secondo, se io sono da solo la mascherina non me la metto, punto terzo, se io faccio la mia zuppa la mascherina non me la metto e poi smettete di fare i questurini. La gente ha il diritto di vivere la propria libertà, fino a che ce ne lasciano almeno uno spazio, come cavolo gli pare, chiaro? Finché non ci multano, leggete cosa dice il profetto di Roma, cioè l'idea che il giornalista va a dire che ci sono addirittura dei delinquenti che sono in macchina senza mascherina, ma ci siamo veramente bevuti il cervello. Nel frattempo cosa è annunciato ieri, oggi ne parlano anche lì, senza nessun minimo spirito critico, ieri Conte annuncia l'ennesima task force per la fase 2, sapete quante persone fanno parte della task force? 17! Questo sembra Mario Brega, 17! Col dito così, 17! Ma secondo voi, voi che siete, che mi ascoltate, maestri, professori di scuola, artigiani, quello che volete, tutti voi che mi state ascoltando, secondo voi si può costruire qualcosa con 17 teste, una più fichetta dell'altra, una che si sente più intelligente dell'altra, professori, consulenti, non c'è un imprenditore, non c'è un artigiano, non c'è un commerciante, ci sono 17 professori, non c'è un artigiano, non c'è un commerciante, non c'è un imprenditore, poi guidato dal grandissimo manager Colau, una brava persona, sarà stata sicuramente un grandissimo manager, ha guidato Vodafone, benissimo, sarà straordinario, oggi il foglio mi spiega che è molto apprezzato da Renzi, non metto in dubbio, ma anche Colau, toc toc, Colau, 17 persone, una task force, dove ci sono professori che la pensano in maniera diametralmente opposta, geni come la Mazzuccatto che vorrebbe un futuro fatto solo di economia pubblica per ripartire, ragazzi così noi per fortuna che ripartiremo per cazzi nostri, scusate la volgarità, perché se stiamo aspettando la task force di 17 persone, aspettiamo come la task force che hanno fatto 74 esperti al Ministero dell'Innovazione per trovare l'applicazione che traccerà gli italiani, oggi su Wall Street Journal, prima pagina di Wall Street Journal, Apple e Google, quindi Apple sono tutti telefonini, iPhone e Google sono tutti telefonini Android, cioè praticamente il 90% dei telefonini esistenti al mondo, stanno facendo un software per il tracciamento e Wall Street Journal dice ci saranno dei grandi problemi di privacy, però è del tutto evidente che con questa nuova tecnologia Bluetooth si riuscirà a tracciare e i 74 di Roma, mi chiedo che cosa stiano facendo, possono essere meglio di Google e Facebook o di Google e Apple, ovviamente mi direbbero il nostro è un compito completamente diverso, dobbiamo fare tante altre cose, ma 74, 74, roba da matti! Nel frattempo vi segnalo tutte le questioni fiscali italiane, vabbè su quelle c'è soltanto da ridere, i 600 euro che hanno chiesto i professionisti secondo il nuovo decreto liquidità, cioè prima dicono ai professionisti di prendere 600 euro ma non dall'Inps ma delle proprie casse e poi il decreto liquidità cambia i parametri per i professionisti e quindi i professionisti se la prendono qua, cioè che devono rifare le domande integrandole perché i professionisti che hanno anche un lavoretto dipendente non possono partecipare. Ma poi nel decreto liquidità, il sole 24 ore, ci spiega che le procedure dureranno almeno 2-3 mesi dal via libera della UE alle attività da parte della SACE per fare le istruttorie, 2-3 mesi e sul tasso del prestito di 25 mila euro, sul tasso di interesse, voi dovete leggere Laura Serafini sul sole. Io vi prego, leggete Laura Serafini sul sole sul tasso di interesse dei 25 mila euro, a parte la difficoltà di prenderlo, a parte i pochi soldi che ci sono, voi dovete leggere le 20 righe del decreto in cui si vuole individuare il tasso di interesse. Incomprensibili! Ma è una roba da matti! E prima prendi un tasso, poi lo colleghi all'altro, poi ci metti un più 0,2%, poi è il tetto massimo, poi deve cambiare ogni mese. Laura Serafini, che è una giornalista, cronista, che non dà opinioni perché fa ancora la cronista, santo cielo, beh, vi scrive che cos'è questa roba senza nessuna opinione ed è da impazzire. Comunque il tasso dovrebbe essere dell'1,2% massimo. Voi ditemi voi se l'1,2% a sei anni dopo che ti hanno fatto chiudere per un anno, il 1,234 è un grande regalo di Stato. Italia Oggi, stupendo, ce lo ricorda, come sempre Panerai nel suo fondo del sabato, che dice che Gualtieri al sole di giovedì aveva detto che gli aiuti di liquidità alle imprese arriveranno entro l'anno e noi entro l'anno le imprese, dove sono finite? A casa di Gualtieri? Insomma, direi che se volete vedervi a caldo la mia arrabbiatura sull'inutile e cinica conferenza stampa di ieri del nostro nuovo caudillo, come dice il tempo di Bekis, andate sul mio sito nicolaporro.it, io vado a preparare la trasmissione di lunedì di Quarta Repubblica. Ciao!